E' ufficialmente scaduta ieri la clausola da 25 milioni di euro per strappare Bulai e Dia alla Salernitana. Una notizia sorprendente per i tifosi Granata, oramai rassegnati a perdere il bomber senegalese. Ed invece le difficoltà del mercato inchiodano proprio l'attaccante a Salerno, con Iervolino e De Santis, che ora si sfregano le mani. Chi vorrà Dia dovrà trattare con il club campano, che chiederà una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Fiorentina ed Everton ancora alla finestra, ma la Salernitana potrebbe anche decidere di costruire il futuro proprio partendo dal bomber. Per Paolo Sosa è incedibile e quindi si andrà avanti in attesa di un'offerta allettante che possa soddisfare il patrono Iervolino. De Santis intanto sonda il mercato in entrata su Nicola Sansone, c'è anche la concorrenza del Monza, mentre per Somm, centrocampista del Parma, c'è ancora distanza con gli Emiliani sul prezzo del cartellino. Sabato sarà sfida amichevole al Frosinone allo stadio Benito Stirpe, con la prevendita cominciata oggi. A proposito di prevendita e tagliandi, raggiunta quota 9 mila per gli abbonamenti per la nuova stagione dei Granata.